Mentre i conservatori britannici ritrovano la leadership, nei Labour si apre la sfida a Jeremy Corbyn. Angela Eagle ufficializza la sua candidatura contro il segretario, il quale ha già fatto sapere di voler raccogliere la sfida della sua ex ministra Ombra alle attività produttive. La Eagle rappresenta quella parte della sinistra che votò a favore della guerra in Iraq e che oggi vuole il rinnovo del deterrente nucleare britannico Trident. Jeremy Corbyn non è in grado di ricoprire la leadership che questo enorme compito richiede. Io credo di sì. Io non sono qui per un partito laborista che è in grado solo di partecipare, io sono qui per vincere. L'attuale leader, in carica da meno di un anno, è stato sfiduciato da 172 deputati laboristi. Il segretario però viene eletto dalla base degli iscritti. Nei sondaggi, Corbyn appare nettamente in testa.